Ciao, sono Selena Dastoffi, Box CrossFit Strongweight, categoria Team Skelet. Andiamo a registrare i World 2A. Oggi ne abbiamo 10-10 del 2017. Forse resti nel 2017. Andiamo a vedere il standard. Allora, cancere da 15, disco da 10, 25, disco da 10 e 25. Per un totale di? 85. Un'ora, cancelle da 15, disco da 15. Noi, noi, noi. Ecco qui.